La KTM è un marchio austriaco di Mati Goffen, un marchio oramai storico nato particolarmente nel settore off-road, negli ultimi anni si è lanciata molto sul discorso street, quindi stradale, con dei nuovi prodotti e anche qua a Roma presentiamo in anteprima diverse novità, dall'Adventure 1190 alla Duke 390. Noi siamo di KTM Italia, lavoriamo per KTM Italia, distribuiamo il prodotto su tutta la rete nazionale e abbiamo 83 concessionari dislocati su tutto il territorio, sulla zona di Roma e sono anche qua presenti ci sono 3 concessionari ufficiali che coprono l'area.